Ieri in Commissione Finanza della Camera ha passato questo emendamento per quanto riguarda la sospensione del pagamento delle tasse fino a luglio. Lei dice grazie ma non basta. Innanzitutto ringrazio, è già un primo segnale. Ricordo che abbiamo presentato un progetto da 822 milioni di opere direttamente e subito cantierabili. Visto come stato che il nostro Presidente del Consiglio Renzi ha dichiarato di avere quasi 2 miliardi di euro per il dissesto idrogeologico ha detto più volte non si riesce a spendere, il Veneto lì non li spende, li investe molto bene.